e ascoltarli perché forse non sanno che lì c'è il figlio di giovanni grimaldi anche perché molti non conoscevano mio padre conoscevano più mio zio perché mio padre sempre ha vissuto nella nella totale non protagonista ecco questo era mio padre quindi ogni volta sentire la bruttissima frase è morto perché ha fatto qualcosa in quel modo non va bene quindi ogni volta era secondo me una un'altra botta trafitta mio padre quello che è successo nel 91 a livello di di faite grosso modo si è saputo certo non si è saputo per esempio di tutto nel senso che alcune vittime sicuramente sono state tali ma come innocenti e però zagari pasquale uno dei principali esponenti della cosca di andrangheta zagara di tarianova è tornato in libertà dopo circa 30 anni di reclusione è stato uno dei principali protagonisti della faida che è imperversato nel centro tarianovese tra gli anni 80 e gli anni 90 fa parte di una storica famiglia di cui componenti sono tuttora detenuti a seguito di numerosi procedimenti penali i più giovani ripeto i quali non sanno e non esiste cosa più dannosa dirà se al non sapere non solo a non ricordare non conoscere l'unica realtà che applaude e proprio l'andrangheta è contentissima vive dell'ignoranza grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti